Musica Ben ritrovati ci sono tante notizie all'interno del nostro TG ma cominciamo dai titoli Dopo otto anni la squadra mobile di Cosenza ha fatto piena luce sull'omicidio di Francesco Ruffolo in manette i due presunti autori dell'assassinio rese note le motivazioni della sentenza con la quale i giudici della Cassazione hanno annullato la misura dell'obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore nell'ambito dell'inchiesta all'Ande Desolate I cittadini di Rende mostrano attenzione e interesse per le amministrative della città seguono il dibattito politico e suggeriscono temi e argomenti ai candidati a sindaco Il Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato dall'ex sindaco di Lamezia Paolo Mascaro il comune in mano ai commissari Lamezia ricorda le vittime di mafia e del terrorismo la manifestazione promossa dal sindacato autonomo di polizia Vi ritrovati per questa nuova edizione del nostro Tg in primo piano la cronaca fatta piena luce sull'omicidio di Giuseppe Ruffolo avvenuto a Cosenza nel settembre del 2011 oggi due pregiudicati sono stati arrestati la sera di quel 22 settembre del 2011 la città di Cosenza sembrò ripiombare nei tempi bui delle guerre d'Indrangheta l'agguato che portò alla morte di Giuseppe Ruffolo fu eseguito nel traffico il killer a bordo di uno scooter affiancò l'auto della vittima che aveva 33 anni e fece fuoco attraverso il finestrino Ruffolo rimase gravemente ferito e riuscì anche a scendere dall'auto ma per lui non ci fu niente da fare spirò nella corsa verso l'ospedale adesso arriva dopo tanto tempo la risposta dello Stato due gli arrestati il presunto mandante Roberto Porcaro e colui che avrebbe sparato Massimiliano Delia un risultato al quale si è giunti per il lavoro serrato di un gruppo investigativo voluto dalla DDA di Catanzaro un gruppo investigativo misto della polizia di Stato fatto di squadra mobile di Cosenza servizio centrale operativo e squadra mobile di Catanzaro sotto la direzione della DDA, della direzione istituale antimafia guidata dal dottore Gratteri le indagini sono state coordinate dal dottor Camillo Falvo e si sono avvalse di risultanze di attività tecniche e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia il quadro probatorio raccolto ha consentito di delineare questi elementi di colpevolezza a carico dei due soggetti sono stati tratti in arresto nella serata ieri e la prima mattinata di oggi in particolare il contesto è un contesto di criminalità organizzata è un delitto maturato all'interno del clan Lanzino Patitucci il clan egemone nella città di Cosenza ed è stato voluto poiché la vittima pare avesse tentato di muoversi autonomamente nella raccolta di danaro di fonte usuraria rispetto alle direttive della Cosca e ciò ha determinato la decisione da parte dei vertici della Cosca rappresentata nello specifico da Porcaro di determinarne l'eliminazione eliminazione che è stata poi portata a termine materialmente dal Delia Massimiliano non ci scorderemo dei vecchi delitti è stato detto dai vertici della DDA di Catanzaro arrivare alla soluzione di questo caso dopo più di sette anni riempie di soddisfazione gli investigatori un'occasione questa importantissima per dimostrare tutto il lavoro che la polizia sta facendo a Cosenza e quindi siamo soddisfatti in maniera veramente grandissima dei dei risultati Era il 22 settembre del 2011 quella sera Giuseppe Ruffolo all'epoca 33enne era appena uscito dall'agenzia di trasporti di cui era titolare insieme al padre erano le 19.30 si mise alla guida della sua auto un Alfa Romeo Giulietta e stava percorrendo via degli stadi quando venne affiancato da una moto contro la vittima designata vennero esplosi diversi colpi di arma da fuoco Ruffolo nonostante le ferite riuscì a scendere dalla macchina e chiedere aiuto venne caricato da un'auto di passaggio e trasportato in ospedale ma prima di arrivare all'annunziata il suo cuore cessò di battere un omicidio plateale che suscitò molto clamore soprattutto per le modalità i killer infatti spararono in una zona di Cosenza a quell'ora molto trafficata un efferato fatto di sangue che si verificò a distanza di 7 anni dall'ultimo omicidio avvenuto in città quando Ruffolo venne ucciso decine di testimoni impauriti videro quei killer arrivare all'improvviso su uno scuterone quasi all'altezza dell'imbocco del tunnel che collega Piazza Europa a Via degli Stadi e far fuoco all'impazzata contro l'auto nera dell'imprenditore un'esecuzione avvenuta in pieno centro che fece ripiombare la città negli anni bui degli scontri tra i clan delle esecuzioni dei morti ammazzati Giuseppe Ruffolo era padre di due figli un terzo rin arrivo un imprenditore non inserito negli organigrammi della malavita anche se portava addosso ancora i segni di un fresco precedente per usura lo scooter utilizzato dai sicari venne ritrovato in fiamme in un bosco arrovito adesso dopo otto anni è stata fatta a piena luce su quell'omicidio maturato secondo gli inquirenti nel contesto della criminalità organizzata cosentina è voluto perché la vittima avrebbe tentato di muoversi autonomamente nella raccolta di denaro di fonte usuraria Cambiamo argomento rese note le motivazioni della sentenza con la quale i giudici della Cassazione hanno annullato la misura dell'obbligo di dimora al Presidente Oliverio a San Giovanni in Fiore nell'ambito dell'inchiesta all'ande desolate vediamo Un ricorso fondato quello presentato dai legali del Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio contro il provvedimento di obbligo di dimora emesso a suo carico nell'ambito dell'inchiesta all'ande desolate fondato sia con riferimento alle censure che attengono la gravità indiziaria scrivono i giudici della Corte di Cassazione nelle motivazioni sia con riguardo a quelle che investono alla valutazione delle esigenze cautelari il 20 marzo scorso la Cassazione annullò senza rinvio il provvedimento emesso dal CIP di Catanzaro il 18 dicembre 2018 per l'ipotesi di reato di abuso d'ufficio in relazione a presunte regolarità in alcuni appalti Oliverio in particolare è indagato e ha già ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini per aver proposto l'approvazione di una delibera con cui la giunta regionale dava l'assenso allo stanziamento di 4,2 milioni di euro per lavori complementari per la sciovia di Lorica nonostante lo stato dei lavori e la crisi finanziaria della società giudicatrice che impediva al privato di versare la propria quota di finanziamento secondo la Cassazione i dubbi sul castello accusatorio nei confronti di Oliverio nascono dal fatto che gli elementi indiziali sono desunti dalle intercettazioni di conversazioni di altri indagati alle quali non prende mai parte il governatore intercettazioni che secondo la Cassazione vengono lette e interpretate senza considerare l'intonazione canzonatoria e riverente assunta dagli interlocutori sintomatica del compiacimento per essere riusciti a convincere il presidente della regione della bontà dei loro progetti della serietà delle operazioni imprenditoriali la chiave di lettura delle conversazioni è scritto ancora nelle motivazioni muove dal chiaro pregiudizio accusatorio che anche Oliverio avesse condiviso le modalità fraudolente con cui dovevano essere finanziate le opere appaltate eroi di valutazione insomma che pongono fondati dubbi sull'effettiva valenza indiziaria del compendio probatorio posto a fondamento dell'ordinanza cautelare e renderebbero doverosa scrivono i giudici un'ulteriore più approfondita valutazione che è preclusa dall'insussistenza delle esigenze cautelari e sono state e sono state rese note le motivazioni del tribunale di Reggio Calabria del riesame di Reggio Calabria le motivazioni della decisione di confermare il divieto di dimora a Mimmo Lucano vediamo come sindaco di Riace o componente del consiglio comunale è attuale e concreto il pericolo che Domenico Lucano possa ripetere reati della stessa specie di quelli già compiuti lo sostiene il tribunale del riesame di Reggio Calabria nelle motivazioni della decisione con cui ha confermato rigettando il ricorso proposto dai difensori il divieto di dimora a Riace per Domenico Lucano arrestato nell'ottobre scorso nell'ambito dell'operazione Xenia all'epoca in cui era sindaco del centro della Locride carica dalla quale è stato successivamente sospeso per Lucano rinviato a giudizio il processo si terrà a Locri a partire dall'11 giugno prossimo per quanto concerne le esigenze cautelari connesse all'inchiesta i giudici del riesame sostengono che Lucano si muove ed agisce nel comune di Riace con disinvoltura e abilità sorprendenti raggiungendo scopi che persegue in spregio assoluto della legge e c'è una notizia appena giunta in redazione il sindaco di Cosenza Mario Chiuto ha ricevuto due avvisi di garanzia emessi dalla procura della Repubblica in uno dei due avvisi di garanzia viene ipotizzato a carico di Occhiuto il reato di diffamazione sulla base di una denuncia presentata nei mesi scorsi dalla procura del presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra non si conosce al momento lo spunto da cui è scaturita la denuncia di Morra che ha portato all'emissione dell'informazione di garanzia nell'altro avviso invece emesso nei confronti di Occhiuto si ipotizza il reato di abuso d'ufficio in relazione alla realizzazione di un soppalco in un fast food del centro cittadino in relazione a quest'ultima indagine secondo quanto si è appreso il sindaco Chiuto è già stato interrogato dalla guardia di finanza delegata dalla procura per le indagini di polizia giudiziaria a cui ha illustrato le procedure seguite per la concessione dell'autorizzazione per la realizzazione del soppalco e c'è la reazione del primo cittadino di Cosenza lui dice in questo modo è veramente difficile fare l'amministratore perché ci sono quelli che intendono la politica quasi come fosse una lotta mafiosa e denunciano e complottano ai danni degli avversari con l'intento di farli fuori lo afferma appunto in una dichiarazione il sindaco di Cosenza Mario Chiuto in merito ai due avvisi di garanzia che gli ha notificato la procura della repubblica nonostante il diffiacere e l'amarezza di subire ogni giorno tali comportamenti scorretti ha aggiunto Chiuto continuerò a lavorare come ho sempre fatto e ad adoperarmi per il bene della mia città e della mia regione andiamo ancora avanti il consiglio di stato respinge il ricorso presentato dall'ex sindaco di La Mezzia Terme Paolo Mascaro in municipio restano i commissari vediamo il consiglio di stato spegne le speranze di riappropriarsi della poltrona di sindaco di Paolo Mascaro i giudici dunque respingono il ricorso presentato dall'ex sindaco di La Mezzia e da parte della sua giunta comunale contro il ritorno al comune dei commissari deciso dai giudici amministrativi di ultimo grado il consiglio di stato ha dichiarato inammissibile il ricorso confermando così i commissari al proprio posto un iter tortuoso per l'ex amministratore Lametino che lo ricordiamo nel febbraio scorso era stato riabilitato proprio dal consiglio di stato e subito dopo sospeso nuovamente questa nuova decisione aveva portato l'avvocato Lametino ad opporsi alla sospensiva presentando ricorso discusso in camera di consiglio ma per conoscere la discussione nel merito dell'intera vicenda legata allo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose dovremo attendere il 19 settembre nel corso di un'udienza a porte aperte il consiglio di stato ha quindi dichiarato inammissibile distanza di revoca dell'ordinanza dunque il comune resta affidato all'aterna commissariale ci spostiamo a Rende dove c'è interesse e attenzione per le amministrative molto seguito il dibattito politico sono i cittadini a suggerire temi e argomenti ai candidati sindaco vediamo mancano nove giorni alle elezioni al 26 maggio nove come i candidati che qui a Rende si danno battaglia per la poltrona di sindaco noi abbiamo chiesto in giro per la città dove viene seguita se viene seguita questa campagna elettorale quali sono i media preferiti e soprattutto cosa chiede la gente al nuovo sindaco di Rende l'interesse per la competizione è alto salvo qualche eccezione i delusi dalle passate esperienze non mancano ognuno ha la propria idea e segue il dibattito in corso sul futuro della città parlando con gli amici in piazza leggendo notizie interventi sul web o sulla carta stampata e seguendo gli intramontabili e utili confronti in tv televisione qualche volta per televisione in televisione sul web sui social solitamente la seguiamo in giro per la città direttamente dei candidati stessi li seguo sia per quanto riguarda le elezioni locali quelle di Rende sui giornali sulle interviste che fanno sugli incontri che loro promuovono sui dibattiti che si hanno qui a Rende in piazza e come capita se esco oppure in piazzetta ma che mi deve seguire il campionato a chi bisogna ascoltare io non ho felice nessuno più dalla piazza dai giornali da Facebook con nove candidati c'è l'imbalazzo della scelta i programmi si differenziano certo l'uno dall'altro ma non possono non esserci punti di contatto tra le strategie scelte per intercettare i voti ma se i programmi li scrivessero i cittadini quali sarebbero i punti salienti le buche sulle strade il decoro urbano lo sviluppo economico sono una costante tra le priorità dei cittadini io vorrei che questi candidati a sindaco la mettessero in piedi questa renda per farla camminare come prima e meglio di prima c'è questa volontà questo impegno da parte di tutti a me mi pare che vanno lì più per interessi personali che per interessi generali delle persone riqualificare riqualificare commenta specialmente rogis eccetera sotto l'aspetto commerciale e produttivo perché si vede una certa decadenza anche perché ci sono le crisi poi per quanto riguarda le cose della giornata tipo la juola eccetera che non sono grossi problemi però all'occhio della vettorica ma qua perché non ci hanno messo male innanzitutto la questione dell'ambiente noi qui abbiamo a rendere una situazione molto delicata per quanto riguarda una vecchia fabbrica che ha inquinato moltissimo si parla del problema da tantissimi anni ma ancora non si è risolto niente poi naturalmente c'è la questione della sanità aggiustare tutti i buchi che abbiamo che si ciccate facilmente spero che renda i migliori sempre di più sia per noi giovani sia per quanto riguarda ovviamente le aspettative di noi giovani poi c'è una new entry che si fa strada nell'elettorato più giovane sicuramente una movimentazione più consistente nella città perché essendo che sono un ragazzo cerchiamo un po' divertimento in più e poi di aggiustare sicuramente il mando stradale perché è in condizioni pessime il nostro sondaggio si ferma qui chiudiamo con un augurio più che azzeccato visto il numero dei contendenti venga il migliore venga il migliore ecco La Mezzia ricorda le vittime di mafia e del terrorismo la manifestazione promossa dal sindacato autonomo di polizia vediamo Per non dimenticare le vittime di mafia oggi anche alla Mezzia davanti al commissariato di polizia si è svolto il Memorial Day 2019 promosso dal sindacato autonomo di polizia nell'ambito delle iniziative a carattere nazionale in memoria di tutte le vittime del dovere in particolare dei caduti della polizia di stato La memoria è una cosa importante per ogni essere umano e quindi benvengano queste occasioni per poter ricordare chi ha dato la propria vita per questo nostro lavoro perché ha creduto nella legalità ha creduto nella possibilità di avere un mondo migliore più giusto più equo per tutti ed è importante per tutti i poliziotti che sono al lavoro ricordare il sacrificio dei colleghi onorare la memoria di chi ha speso la propria vita al servizio degli altri pagando un prezzo molto alto mio padre è venuto a mancare 38 anni fa era a Bologna alla quest'ora di Bologna in seguito a delle ferite riportate per un incidente stradale avvenuto in servizio e niente mia mamma era incinta di me di tre mesi dopo sei mesi di matrimonio purtroppo è successo questo grave incidente insomma è morto e ha dato alla luce a me che porto il suo nome adesso lavoro alla polizia di frontiera e indosso la sua divisa l'iniziativa di oggi è il ricordo di tutte le vittime della mafia del terrorismo e di ogni altra forma di criminalità morte per difendere il nostro paese da diversi anni a questa parte il cammino della memoria seguirà l'itinerario della cosiddetta via Michaelica per giungere a Monte Sant'Angelo nel Gargano presso il santuario di San Michele Arcangelo una delle staffette dei corridori è stata proprio alla Mezzia Terme dove i ciclisti del Memorial Day sono stati affiancati da una cospicua rappresentanza del gruppo sportivo la Mezzia Bikers abbiamo fortemente voluto la tappa della Mezzia Terme per ricordare le nostre vittime del dovere che sono Pietro Caligiuri Salvatore Aversa Diano Paolo e Andrea Campagna abbiamo voluto pure la presenza oggi di una classe di alunni della terza media della scuola Maggiore Perri di La Mezzia Terme che hanno partecipato ad un percorso ad un progetto all'educazione della legalità è passato più di un anno da quel tragico 9 aprile del 2018 quando un'autobomba all'imbadi uccise il biologo Matteo Vinci e ferì gravemente il padre fissata dal giudice per le udienze preliminari l'udienza preliminaria vediamo fissata fissata per il 7 giugno prossimo l'udienza preliminare per la vicenda dell'autobomba di Limbadi lo ha deciso il giudice per le udienze preliminari distrettuale di Catanzaro era il 9 aprile del 2018 quando morì il biologo Matteo Vinci 42 anni investito dallo scoppio di una bomba collocata sotto l'automobile sulla quale viaggiava insieme al padre Francesco di 70 anni che rimase gravemente ferito il pubblico ministero della procura antimafia di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio per i 5 indagati nell'inchiesta sull'attentato attuato secondo l'ipotesi accusatoria per vendetta contro la famiglia Vinci per la mancata cessione di un terreno ai 5 indagati per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio la direzione distrettuale antimafia contesta il reato di omicidio volontario e il tentato omicidio aggravati dalle modalità mafiose la DDA imputa agli indagati anche un secondo tentato omicidio ai danni di Francesco Vinci risalente all'ottobre del 2017 e la detenzione illegale di diverse armi da fuoco a Vibo per parlare di slot machine vediamo nella provincia ultima per qualità della vita c'è un ulteriore fattore che crea preoccupazione la diffusione del gioco d'azzardo con una presenza spropositata di slot machine e videolotteri in tutta la provincia di Vibo venese sono ormai un centinaio le sale gioco alcune delle quali anche in prossimità delle scuole le giocate in tutto il territorio provinciale arrivano a sfondare la barriera dei 250 milioni di euro in un anno mentre le vinci si attestano sui 208 milioni e le perdite arrivano a circa 46 milioni il fenomeno va assumendo i connotati di una vera e propria malattia sociale la lutobattia colpisce soprattutto giovani ed anziani e viene a necessità di una presa di coscienza e di iniziative in grado di coinvolgere la parte debole della società da tempo i singoli comuni della provincia sono sollecitati ad adotarsi attraverso regolamenti e ordinanze di misure appropriate ed efficaci che disciplinino in senso restrittivo l'attività di gioco d'azzardo autorizzata sul territorio cittadino le risposte ancora attendono nel frattempo ci provano le forze dell'ordine a frenare il fenomeno attraverso un'azione di controllo del territorio come in questo caso hanno fatto i carabinieri della stazione di Dinami che insieme ai militari del gruppo della guardia di finanza di Vibo Valencia hanno proceduto ad effettuare due controlli presso altrettanti esercizi pubblici i due controlli hanno consentito di accertare la totale assenza delle previste autorizzazioni ed in particolare del nulla osta per la messa in esercizio di quattro apprecchiature da intrattenimento di tipo appunto slot machine quattro slot machine sequestrate circa 50.000 euro di sanzioni e il bilancio complessivo dei controlli le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi la procura della repubblica di Vibo Valencia ha chiesto il processo per eventi indagati tra medici e impiegati e amministrativi in servizio nel distretto sanitario di Serra San Bruno accusati di essersi assentati ingiustificatamente dal posto di lavoro i reati ipotizzati a loro carico sono truffo aggravate e continuate e false attestazioni di prestazioni lavorative il bidello di una scuola primaria di Gioia Tauro avrebbe ucciso abbastonate un gattino che si era introdotto in un'aula alla presenza dei bambini la denuncia è stata fatta dalla delegata degli animalisti italiani Maria Antonia Catania al garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Calabria Antonio Marziale quanto accaduto nella scuola afferma Marziale è da annoverarsi tra le denunce più raccapriccianti che io abbia raccolto nel corso del mio mandato istituzionale nascondeva la droga nella ruota di scorta arrestato un 32enne pregiudicato di Pizzo nel Vibonese il suo atteggiamento è insospettito i militari impegnati in un servizio di controllo del territorio sottoposta a perquisizione alla vettura con l'ausilio di un'unità cinofile antidroga è stato rinvenuto nell'alloggio della ruota di scorta un involucro contenente oltre 300 grammi di marijuana la guardia di finanza di Reggio Calabria ha sequestrato beni per oltre 13 milioni di euro ad un imprenditore della provincia ritenuto colluso con clan malavitosi all'operazione ha partecipato il servizio centrale investigazioni criminalità organizzata con il coordinamento della DDA Regina un 22enne è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati alla vittima con l'accusa di stalking nei confronti dell'ex fidanzata dalle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di la mezza eterna è emerso che già durante la relazione durata alcuni mesi sono iniziate le scenate di gelosia del ragazzo che hanno spinto la ragazza a interrompere la frequentazione il giovane ha quindi iniziato ad assillarla minacciando il suicidio i nuovi scenari dell'informazione ne abbiamo parlato con Francesco Saverio Vettere segretario generale dell'USPI l'Unione Stampa Periodica Italiana vediamo Francesco Saverio Vettere che è il segretario generale dell'USPI allora come cambia oggi il mondo dell'informazione beh cambia moltissimo in diversi sensi diamo dei dati negli ultimi cinque anni la vendita dei quotidiani è scesa del 31% scendendo quindi a livelli imprevedibili solo 15 anni fa in cui si vendevano 6 milioni di copie però sta aumentando il bisogno di informazione e che vuol dire che il bisogno di informazione si sposta su altri mezzi e soprattutto direi su internet sull'editoria digitale mentre cadono i numeri dell'editoria cartacea salgono i numeri dell'editoria digitale e nascono i nuovi giornali nativi digitali che acquisiscono progressivamente sempre più importanza nella formazione dell'opinione pubblica e devo dire che ci sono state in questi vent'anni alcune rivoluzioni determinanti non solo l'avvento di internet ma l'avvento dei motori di ricerca come google dei social media come facebook e adesso noi ci stiamo preparando all'avvento del 5G che stravolgerà ancora di più quello che è il mondo dell'informazione e i media tradizionali in questo contesto mutato? i media tradizionali devono sapersi rinnovare nel senso che devono fondere il vecchio spirito dei media dei media cartacei e soprattutto quello che devono portarsi ancora è il senso profondo della deontologia giornalistica perché questa è una delle cose che devono restare però devono sapersi innovare noi in questi mesi stiamo facendo gli stati generali dell'editoria con il governo e stiamo ragionando su a quali categorie dare supporto per il loro sviluppo bisognerà dare supporto ai mezzi tradizionali ma bisognerà anche sostenere l'innovazione dei giornali dei giornali digitali e anche dell'informazione locale televisiva che continua a essere determinante e che se si saprà rinnovare avrà un ruolo importantissimo nel mondo dell'informazione L'economista Pierangelo da Crema ha presentato a Cosenza il suo ultimo libro dedicato alla storia dell'Europa vediamo Sognando l'Europa grande statista cercasi questo è il titolo dell'ultimo libro di Pierangelo da Crema presentato a Cosenza nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzzi un progetto forte quello che disegna l'autore nel suo libro ed è quello di un'Europa economicamente e politicamente unita un'Europa che sia più importante della sua moneta l'idea è quella che il vecchio continente possa ripartire dagli ideali iniziali contro i sovranismi irriducibili L'Europa è stata voluta da uomini come Adenauer De Gaulle come Churchill che era stato il primo forse a parlare degli Stati Uniti di Europa da italiani come De Gasperi Spinelli ecco di queste figure sentiamo la mancanza siamo orfani oggi la politica si elabora e si realizza secondo schemi diversi io credo che si possa e si deve andare oltre Twitter oltre Instagram oltre Facebook perché la politica dovrebbe tornare ad essere il luogo di decisioni meditate più o meno sofferte ispirate a ragionevoli compromessi ispirate soprattutto dall'ideale del benessere collettivo a dialogare con l'autore c'è stata anche Marta Petrusevic storica del mezzogiorno oltre al vice sindaco e assessore alla cultura Iole Santelli chiudiamo con le previsioni del tempo la goccia fredda è transitata ieri responsabile di maltempo e clima freddo si è allontanata verso est lasciando spazio a correnti più umidi meridionali che apporteranno anche a un graduale miglioramento del tempo domani cielo velato o nuvoloso per nubi medio-alte su tutto il territorio non si escludono brevi piovaschi sparsi in modo particolare sulla Sila temperatura in lieve aumento domani mari mossi con venti deboli dai quadranti meridionali prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria è tutto grazie per essere stati con noi grazie a regia Michele Cava in messi in onda Giuseppe Costanzo e Francesco Camposani noi davvero ci fermiamo qui grazie ancora vi auguriamo un buon proseguimento